La Toscana ha un cuore sportivo con 941.000 toscani, un quarto del totale, che fanno sport in modo continuativo e oltre 2 milioni che fanno attività fisica. Lo dice il primo rapporto regionale sullo sport della regione toscana, illustrato a Firenze dal ministro dello sport Luca Lotti, dall'assessore regionale Stefania Saccardi e dai rappresentanti dello sport toscano. Dal 2001 al 2016 i sedentari sono calati del 5% e tra 2015 e 2017 la regione ha contribuito con 7 milioni all'impiantistica sportiva, che conta 6.210 impianti con 2 milioni alle associazioni sportive. Lo sport sta bene, ha bisogno di energie, ha bisogno di risorse, ha bisogno di investimenti importanti, infrastrutturali ma anche culturali, nelle nostre federazioni, nelle nostre società sportive, nei nostri enti di promozione. Hanno dato i loro frutti anche il progetto Sportabile per garantire l'accessibilità agli impianti alle persone con disabilità e il progetto Sport e Scuola Compagni di Banco, che ha coinvolto 125.500 bambini della scuola primaria, ma lo sport è anche un motore economico con un volume d'affari di oltre 200 milioni nel 2016. Tantissime persone si occupano di sport insieme a moltissimi volontari, perché voglio ricordare che è l'ambito nel quale abbiamo il volontariato più numeroso, ma lo sport muove anche tanti interessi, interessi positivi naturalmente e quindi produce anche tanto lavoro. Le cose da migliorare? Le differenze di genere. Il 35,5% delle donne non fa sport contro il 27,9% degli uomini, ma i dati restano comunque migliori della media nazionale. Il 35,5% delle donne non fa sportive per garantire l'accessibilità, ma lo sportive per garantire l'accessibilità.